ciao a tutti ciao Antonio allora sono le otto io volevo stare io volevo stare con voi ho provato a cagare a casa ma con il wifi è un problema ah stanno arrivando già i vostri mate mate sei un mitogianne francesco franillo ciao ciao juicy juicy happy birthday to you trovo straordinario questa cosa che mi può mettere in contatto con voi che siete una famiglia ormai numerosissima siamo siamo diventati talmente tanti questa famiglia allargata veramente tra facebook e instagram mi seguite non so come in questa maniera eccezionale straordinaria comunque continua a leggere perché qui scorrono un sacco di nomi ecco per Gabriele Pier Gabriele ciao Gianni dove ti trovi ora e sono qui vicino a casa mia sono uscito perché a casa mia il wifi non funziona Gianni Zucca Gianni sistemati i capelli che sei Zucca ha 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 dove sei 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 ma ti fai le canne eh 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 sì siete voi che mi date energia mi date mi fate diventare un po' matto il fatto che sei fa veramente effetto anche perché è una cosa inaspettata salvatore ciao Gianni certamente io continuerò a fare le mie foto di Anna quotidiane nella mia nella mia nella mia nella mia vita di tutti i giorni e naturalmente una volta ogni tanto è bello anche vederci così fammi vedere qualche altro fammi vedere ma degli occhiali sporchi di Zucca non riesco a pulirli eh 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 ma è stupendo pensare di essere ma Zucca mi piace da morire passate una buona estate fate un buon posto siate felici siate sereni cercate di vivere le cose belle della vita e se capita qualcosa di negativo eh eh dobbiamo cercare di superarlo cercate di sorridere il più possibile ciao